Non sono ancora al 100% della forma, ma voglio tornare al massimo al più presto. Purtroppo ho avuto qualche problema al Benfica, dove ho giocato molto poco, ma ora mi sto preparando al meglio. Indossavo già il numero 21 alle mani in Francia. È il numero che aveva Zidane nella Juventus e Zidane per me è sempre stato un simbolo. Il campionato italiano è uno dei più importanti al mondo e so bene che Napoli è una piazza molto esigente. Per questo mi impegnerò al massimo. Sono davvero molto contento della presenza di una folta comunità algerina a Napoli. Spero di vederli tutti allo stadio. Sono molto contento di essere il giocatore di Napoli. Ok, grazie. Grazie.